Vivere una relazione con un narcisista, uomo o donna che sia, può essere una straordinaria opportunità di comprensione di se stessi, in quanto ogni relazione affettiva si struttura sulla base di elementi psicologici che rimangono spesso sommersi nelle profondità della psiche, dove si collocano significati inconsci non visibili agli occhi del mondo esterno, che però guidano le nostre azioni. È sempre l'inconscio che ci catapulta in un intricato contesto affettivo e relazionale. A questo punto però è importante sapere che il coinvolgimento emotivo scatena l'emersione di contenuti profondi, che quindi vengono portati in superficie e possono essere conosciuti. La dimensione psicologica interiore di ognuno di noi si manifesta grazie ad una relazione e più problematica è questa relazione, più favorisce il processo dell'autoconsapevolezza. Il mondo emozionale trova il suo terreno fertile nel rapporto di coppia. Infatti i sentimenti sono le radici portanti del nostro modo di essere. L'amore in particolare è la luce che spazia nella tenebrosità del nostro animo. Dunque è uno strumento di conoscenza dell'inconscio, nel quale è racchiuso il desiderio autentico di cui noi siamo custodi. La psicanalisi ci insegna che la forza motrice nella dimensione psichica dell'individuo è proprio il desiderio. Tutti gli psicanalisti concordano su questo punto, ma il desiderio è qualcosa di impalpabile e in buona parte è inconscio. Fatto sta che il desiderio detiene le redini del nostro agire, orientandoci verso determinate persone, come ad esempio il narcisista. Dunque non è un caso se ci siamo innamorati di un narcisista. Il nostro desiderio inconscio segue intuizioni e aspirazioni proprie, oltrepassando ogni forma di divieto. In un certo senso dovremmo fidarci delle nostre scelte inconsce, in quanto ciò che ci capita non può essere frutto del caso. E se ci siamo imbattuti in una relazione narcisistica, questo significa che dobbiamo coglierne il senso. Quando cogliamo l'intricato significato delle nostre scelte, allora cresciamo e possiamo attingere al nostro tesoro interiore. Il tesoro si trova oltre il ristretto confine dell'io, oltre il suo egocentrismo, e si trova nel regno dei sentimenti. Ora, vivere con un narcisista scatena nella vittima inevitabilmente vissuti di inadeguatezza, vissuti di distanza emotiva e di inconsistenza, perché sentiamo l'inautenticità del rapporto, ma dovremmo sapere che questo dolore che noi avvertiamo costituisce una realtà poliedrica, perché è proprio questa condizione di disagio interiore che può diventare uno stimolo, cioè un impulso, che ci spinge ad interrogarci in merito a noi stessi, e quindi in merito al sentimento di rifiuto che stiamo vivendo. Il fantasma del rifiuto genera desolazione, e non c'è coppia che non abbia fatto i conti con questo problema. Il narcisista è un maestro del rifiuto. Il suo disamore, il suo disinteresse, attivano vissuti che affliggono un duro colpo al nostro narcisismo. Essere rifiutati assume il significato di una disconferma di appartenenza al mondo, ma proprio per questo noi iniziamo a strutturare una nuova personalità, più forte ed autonoma. E qui tocchiamo uno degli aspetti più inquietanti e misteriosi dell'esperienza amorosa. Ora, come vado dicendo in vari video, l'antidoto alla desolazione si chiama creazione, creatività. Perciò questo è il momento di rinnovarsi e di reimmaginare se stessi. E non ci sono alternative. O creiamo noi stessi, o moriremo sul piano psichico. Per creare ciò che potremmo diventare e fare della nostra vita una vera e propria opera d'arte, dobbiamo acquisire una maggiore libertà. e liberi si diventa quando conosciamo il nostro mondo interiore. Ecco perché amare un narcisista, per quanto sia possibile, può diventare un assalto a se stessi, nel senso che dobbiamo rompere il nostro guscio narcisistico, cioè quelle difese che naturalmente abbiamo e che ci proteggono dalla vita stessa. In altre parole, per tornare ad amare la vita è necessario smantellare la nostra vecchia struttura. Dobbiamo tagliare i rami secchi. Questo può avvenire proprio grazie all'investimento affettivo che dà la spinta per partorire una nuova personalità. E anche se questa dilatazione del cuore avviene con dolore, questo è un dolore che non possiamo considerare come un nemico. Perciò l'investimento affettivo della vittima verso il suo carnefice nutre il desiderio di cambiamento della vittima stessa ed è una condizione senza la quale nessuna trasformazione può avvenire. ecco perché amare un narcisista e sperimentare la profonda delusione che ne consegue, cioè lo smembramento dell'anima, può essere una grande occasione, un'occasione unica per investigare i nostri conflitti laceranti entrando nel cosiddetto sottosuolo dell'anima. E questo è già un ribaltamento di atteggiamento che fa scegliere di vivere l'esperienza istante per istante in maniera attiva piuttosto che da vittima. La discesa nel mondo dell'inconscio è necessaria per contattare le nostre ferite che si trasformeranno poi in feritoie, cioè squarci dai quali guardare il mondo interiore, determinando appunto quel risveglio psicologico che noi chiamiamo consapevolezza. Proprio per questo la relazione con un narcisista può trasformarsi in una preziosa occasione per iniziare a portare a termine un autentico lavoro psicologico e per fornire un linguaggio nuovo all'indicibilità dei fatti psichici che vengono nominati proprio a partire da uno stato di frammentazione e di smembramento. Tra l'altro è proprio questo il desiderio inconscio che ci ha spinto verso le braccia di un narcisista, cioè il sogno di uno sguardo nuovo sulla propria vita. E allora il rapporto con il narcisista può trasformarsi in una valida esperienza esistenziale soltanto se però abbiamo la forza e il coraggio di aprirci alla nostra dimensione creativa. Attraverso il rapporto si diventa consapevoli della propria unicità, dell'importanza di essere individui. Ognuno di noi deve sapere che rappresenta un evento irripetibile nell'universo e come ho spiegato nel video precedente questo accade perché solo attraverso questa coscienza si può riconquistare la propria dignità di essere umano e allora nessuno potrà più attentare alla nostra persona minando l'autostima. Dobbiamo sapere che noi tutti siamo dotati di una bellezza psicologica che non è paragonabile a quella di nessun altro ed è necessario valorizzare questa bellezza in quanto l'individualità è una strada dura ma è anche l'unica che ci consente di sopravvivere con dignità ai duri colpi inferti dal narcisista. La specificità di un uomo che ha individuato se stesso non è un dono del destino ma è il risultato di un lungo lavoro psicologico e di una fatica squisitamente umana che ci impegna per tutta la vita. Di fronte all'interrogativo che il paziente pone sul senso del suo dolore e delle sue disgrazie bisogna saper inventare insieme a lui delle risposte che non si danno mai a priori. così come ad un figlio che ci interroga sul senso della vita non si può dare una risposta ben definita perché l'unica indicazione possibile è quella di rivolgersi alla propria individualità. Non a caso l'analisi consiste nell'attivare nell'altro una spinta interiore alla soluzione autonoma dei propri problemi. Bene io mi fermo qui e vi informo che faccio consulenze psicologiche online sia con la videochiamata sia consulenze telefoniche oppure via mail per cui se volete richiedervi una consulenza dovete contattarmi su whatsapp al numero 338 16 92 473 scrivendo come funziona la consulenza psicologica e specificando poi il vostro nome cognome e gli orari preferiti. inoltre potete visitare il mio canale youtube dove troverete oltre 350 video suddivisi in varie playlist dal narcisismo alla manipolazione effettiva casi clinici sogni e via dicendo. Inoltre sono presente anche su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho aperto una pagina che si chiama la mia psicologia. In bocca al lupo.